salve che palle salve dottore sono il dottor nosereden sono ashley molto lieta il piacere tutto suo allora vediamo la paziente pesa 288 chili e ha un attaccamento ossessivo compulsivo verso i dolci che non può smettere di mangiare se non durante il sonno notturno allora da adesso in poi l'unico dolce che potrà mangiare è l'acqua panna perché da adesso in poi lei potrà solamente introdurre acqua nel suo stomaco è chiaro è uno scherzo io non scherzo mai beh ma ci saranno delle eccezioni cosa mangia la neusara dan torta la neusara dan tutto a base di ghiaccio e acqua dottore così non posso farcela per tutta la mia vita io ho sempre mangiato dolci dalla mattina alla sera finché non mi addormento io mangio dolci non posso stare senza dolci veramente che storia strappa lacrime non me ne frega assolutamente un cazzo chiaro risponda sì sì di un po' moccioso la mamma se magna tutto è tutto da oggi non si scherza lo sgarro il suo sgarro settimanale sarà dell'acqua frizzante ma adesso se ne vado affanculo l'ho mandato affanculo